Infrastrutture rigassificatore la regione chiede garanzie al governo. In consiglio regionale si è discusso della nuova infrastruttura che dovrebbe essere localizzata al porto di Piombino. Ben trovati, nuovo appuntamento con Monitor Consiglio, il nostro approfondimento dedicato ai lavori del consiglio regionale. Partiamo da un'infrastruttura che ha fatto discutere moltissimo nelle ultime settimane ed è quella relativa al rigassificatore che potrebbe essere posizionato di fronte al porto di Piombino e tutto ciò con grandi proteste degli abitanti della zona. Ebbene, la regione toscana ha chiesto chiarimenti e garanzie al governo prima di dare il via all'iter ufficiale per il posizionamento del rigassificatore. Il consiglio ha approvato una risoluzione presentata dal Partito Democratico con cui si chiedono maggiori dettagli di questo progetto, in particolare in materia di sicurezza. Palazzo del Pegaso chiede inoltre al governo centrale le risorse per un piano di rilancio complessivo di tutto il territorio di Piombino se dovesse accollarsi questa infrastruttura. La risoluzione del PD è stata approvata a maggioranza, le opposizioni si sono astenute a eccezione del portavoce dell'opposizione Marco Landi che ha votato contro. E allora andiamo a sentire le interviste per capire quale sarà la strada per Piombino e come la regione potrà sostenerlo dopo aver sollecitato il governo. Si è chiaro che finora vengono fuori le questioni poste solo da un punto di vista tecnico di lettura delle norme. Poi non a caso io sono commissario e le norme le leggo ma le interpreto e come commissario io mi sento garante dei cittadini. Quindi può passare tutto il tempo che vuole ma affinché io non ho assicurate le condizioni di sicurezza, di impatto ambientale e di rispetto della salute dei cittadini nella città e nel porto di Piombino io non firmo niente. Quindi è indubbio che i cittadini si devono sentire garantiti del fatto che se il commissario è il presidente della regione in Toscana per Piombino come in Emilia Romagna è il presidente della regione Bonaccini per Ravenna è perché io voglio che tutti gli enti preposti e tutte le condizioni per assicurare sicurezza e impatto ambientale devono essere garantite. Questo anche senza la valutazione di impatto? Ma certamente, possono esserci tutte le normative che si vuole ma l'obiettivo delle norme è sempre uno, la salute e la sicurezza dei cittadini. Quindi niente può transigere dal fatto di avere tutte le condizioni perché venga assicurato questo. Secondo elemento, io ritengo che Piombino debba avere una prospettiva nella logica e nella strategia del governo nazionale che ha deciso il posizionamento nel porto Piombino della nave di risgassificazione tenendo conto di tutte quelle che sono state le esigenze che non sono state concretizzate in questi anni. Quindi ho fatto un memorandum che è un decalogo con 10 punti e che prevede una serie di adempimenti su cui io voglio una disponibilità e soprattutto una concretezza da parte del governo sul piano delle bonifiche, sul piano delle infrastrutture stradali che consentono di evitare il traffico che va verso il porto nella città, sul piano della nuova visione del promontorio e quindi sulla realizzazione di progetti di energie rinnovabili, eolica, fotovoltaica ma anche di realizzazione di un distretto per la produzione di idrogeno e poi il rilancio della siderurgia con forno elettrico, non certo con l'inquinante alto forno e naturalmente anche il completamento dello stesso porto che finora è stato realizzato a spese della regione, né del comune né dello Stato, della regione toscana che ci ha messo 150 milioni per realizzare quella banchina dove andrà il ricazzificatore e ancora ci sono opere per circa 120 milioni, c'è la seconda banchina e tutta una serie di opere complementari su cui nel momento in cui si utilizza quel porto il governo sicuramente si farà carico di realizzarle. Quindi il memorandum nel decalogo dei 10 punti è per me elemento fondamentale perché possa essere poi dato il via al lavoro di Snam. Noi siamo abituati alle novelle del Presidente Gianni, noi però guardiamo i documenti, per il rilascio dell'autorizzazione alla nave rigassificatrice di Livorno sono stati impiegati 14 anni, un grande numero di tecnici hanno dovuto valutare tutte le criticità e tutti gli aspetti e non capisco come lui possa essere così ottimista e soprattutto essere così sicuro riguardo anche alla sicurezza perché mettere a repentaglio la sicurezza di un'intera città che diventerebbe non solo zona di interdizione perché se si proiettano sulla città di Piombino le zone di interdizione previste sulla nave ancorata a 12 miglia da Livorno si crea una zona di interdizione molto bassa e non riesco a capire come faccia a eludere lui queste zone di sicurezza. Tra l'altro se anche le elude il governo nazionale ci sono delle norme internazionali di sicurezza riguardo alle navi rigassificatrici che non possono essere luse quindi questa è una cosa inconcepibile assolutamente da non fare, la città di Piombino ha già pagato in termini ambientali un prezzo altissimo, stiamo bloccando non solo lo sviluppo economico della città di Piombino che attende le bonifiche da decenni ma mettiamo a repentaglio la sicurezza di un'intera città e soprattutto la trasformiamo in un obiettivo sensibile in caso di attacco armato o di attacco militare da parte della Russia che se fosse sganciato un missile su quel porto con la nave rigassificatrice creerebbe una devastazione di proporzioni epocali. Ecco io come non si faccia a considerare tutto questo lo trovo un enigma. Sono molto curiosa di sentire le argomentazioni del Presidente Gianni rispetto a queste. Tra l'altro ho trovato un documento, un gruppo di studio sul terminale offshore fatto dalla regione toscana che ha studiato tutti gli incidenti rilevanti avvenuti in questo processo di liquefazione, trasporto e rigassificazione e sono tantissimi. Ci sono navi trasportate dalle tempeste, fulmini, esplosioni, interventi di manutenzioni falliti. Sono tantissimi e testimoniano la pericolosità di questo processo. Io capisco la situazione emergenziale dovuta anche al fatto che l'Italia non si è mai fortemente avviata sulla strada della scelta delle fonti alternative di energia compatibili con l'ambiente. Però non possiamo in nome di un'emergenza nazionale mettere a repentaglio la nostra regione e che lo faccia il Presidente della regione è ancora più assurdo. Noi dobbiamo proseguire nell'azione di diversificazione dell'approvvigionamento energetico per quanto riguarda l'Europa. Lo dobbiamo fare dando il nostro contributo come regione toscana, come Italia, più o meno è stata scelta dal governo e sta dentro le logiche degli interventi di carattere europeo. Riteniamo che questa può essere una grandissima opportunità per la città, per la Toscana, non soltanto perché dietro questo investimento ci può essere lavoro, ci può essere ricchezza, ci possono essere delle opportunità, ma non tanto per le azioni di compensazione che comunque dovranno essere negoziate con il territorio, quanto per l'opportunità di avere una fonte di approvvigionamento energetica nuova che consente di rendere l'Italia indipendente dall'approvvigionamento russo. Questo è un elemento di grande importanza del fabbisogno nazionale, è un intervento similare che si è già sviluppato tra Piombino e Livorno, è evidente che siamo nella costa toscana, è evidente che c'è quello che per noi è una delle priorità, la grande attenzione di carattere ambientale, lo sviluppo turistico, le questioni della pesca, tutte questioni che devono essere conciliate rispetto al rispetto dell'ambiente, rispetto alla sicurezza del lavoro, ma deve essere un intervento che va nella logica di creare lavoro, creare ricchezza. Io mi auguro anche grandi opportunità per tanti cittadini della costa che possono a quel punto avere un approvvigionamento energetico magari senza sostenere dei costi, questa deve essere una scelta importante, quindi vantaggi per le imprese, vantaggi per i cittadini, opportunità per la Toscana. L'idea di andare avanti, di fare riforme, di fare investimenti, di andare e di credere in forme alternative di approvigionamento energetico, deve essere una risposta di autorevolezza che dà forza al nostro governatore. A me fa piacere che Taria Viva, sotto la mia firma, abbia presentato una risoluzione importante, condivisa anche dal collega Sguanci, che dà sostegno al Presidente Gianni e come forza di maggioranza siamo stati la prima e l'unica a dare questo sostegno al Presidente Gianni. Intanto siamo rimasti basiti dal fatto che dovremmo ricevere rassicurazioni dal governatore Gianni, che evidentemente non ha ancora capito che ruolo è stato chiamato a compiere, perché lui è commissario per realizzare il gasificatore, non è commissario per decidere se fare o no il gasificatore. Quindi oggi venga a dire che firmerà soltanto se saranno garantite le condizioni nell'interesse della città di Piombino, è sicuramente una bella posizione che da governatore della regione toscana è giusto che assuma, e nessuno dubita che da governatore voglia abbia a cuore la città di Piombino, peccato che da commissario lui non debba decidere, hanno già deciso altri per lui, ha deciso tre mesi prima il Ministro Cingolani senza sentire nessuno, né tantomeno il Sindaco di Piombino, che quell'opera si farà e si farà lì. E Eugenio Gianni ha 120 giorni di tempo per fare l'opera, quindi non è che oggi ci può tranquillizzare. Sul Decalogo ancora peggio, perché oggi lui legge in aula 10 punti, che evidentemente ha già deciso essere le compensazioni che la città di Piombino dovrà accettare in cambio di 300 metri di nave ancorata nel porto per tre anni, e questi 10 punti non capiamo con chi li abbia discussi. Sicuramente non con la città di Piombino, perché il Sindaco Ferrari non sa niente e non è a conoscenza di questi 10 punti, sicuramente non con la maggioranza e lo sostiene il Consiglio regionale. Abbiamo ascoltato l'intervento del Consigliere Anselmi, che ha fatto dieci anni, il Sindaco di Piombino, che ha parlato di non aver contribuito alla stesura di questi 10 punti. Quindi sono 10 compensazioni che Eugenio Gianni decide possano bastare la città di Piombino per prendersi in cambio, probabilmente è un danno ambientale perenne e sicuramente un danno al turismo molto forte, un danno alle itticulture molto forte, che ha deciso non si sa dove e con chi. A noi questo atteggiamento lascia perplessi e preoccupati, perché l'opera andrà avanti, ben che dedica Gianni, l'opera porterà delle compensazioni non decise dalla città di Piombino, dai piombinesi, ma decise da Gianni. Questo modo di vedere è un modo di vedere che cozza un po' con le regole democratiche del gioco. Laddove un sindaco, laddove una città, laddove le parti vive della città, i comitati, i sindacati, le associazioni di categoria, avrebbero dovuto avere una parte attiva. Visto che poi i danneggiati saranno loro, i danneggiati saranno coloro che io leggevo qualche giorno fa su un articolo di giornale in cui venivano intervistati i pescatori al porto di Piombino, pescatori che erano lì a lavorare. E dicevano dopo anni finalmente sta arrivando un po' di turismo sano nei ristoranti di Piombino che per noi è indotto, che per noi è lavoro. Loro pagheranno avere tre anni una nave regassificatrice ancorata nel porto di Piombino. Le compensazioni dei ciregiani in un ufficio non si sa con chi o consultandosi con chi. Questo è un atteggiamento che non ci piace. Il presidente Gianni si faccia veramente portavoce del sentimento dei cittadini di Piombino e dei sindaci della Val di Cornia che hanno chiaramente manifestato per il no a questa opera che dovrebbe essere ricompensata a quanto ci riporta il presidente in questa comunicazione della quale non possiamo essere assolutamente soddisfatto e che differisce molto tra l'altro da quello che ci era stata presentata in forma scritta, di un elenchino di dieci punti di questo fantomatico memorandum che in realtà non è altro che compensazioni fasulle e che sinceramente non possono accontentare o compensare un bel niente, soprattutto un'opera come quella di una nave metaniera sul porto di Piombino con tutti i rischi e le garanzie che non ci deve dare una società privata come Snam, ma ci deve dare il governo e le istituzioni. Il Consiglio regionale ha anche definitivamente approvato la semplificazione delle procedure per l'approvazione dei progetti pubblici finanziati col PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un argomento che il Consiglio aveva già trattato anche nelle scorse settimane, adesso è arrivata la definitiva approvazione e allora sentiamo il commento del presidente della Commissione competente, Lucia De Robertis. Sì, è stata modificata la legge perché con il Ministero, dopo un colloquio che c'è stato con gli uffici legali del Consiglio regionale, si è ritenuto di evitare l'impugnativa da parte del governo e quindi di portare queste modifiche, che per noi erano abbastanza ovvie, però il Ministero ha chiesto che specificassimo che per tutti i lavori pubblici o privati che insistessero su terreni o territorio che erano vincolati dal codice dei beni culturali, quindi insomma beni vincolati, ci fosse il parere della sorrintendenza. Per noi era cosa abbastanza ovvia, l'avevamo scritto nel preambolo della legge che comunque il PIT è il livello più alto da rispettare, d'altro canto la regione toscana è stata la prima regione a avere il piano paesaggistico, quindi non è che possiamo essere noi a dire che non si rispettano le regole, però il Ministero ha chiesto di poter specificare questa norma, per noi non è stato difficoltoso anche perché non allunga i tempi, la paura che avevamo era questo, invece il parere della sovrintendenza, quindi del rappresentante del Ministero dei beni culturali è all'interno della conferenza dei servizi, quindi per noi si rispetta la legge, si rispetta la velocizzazione, si rispetta il nostro territorio. Bene, è davvero tutto anche per questo appuntamento settimanale con Monitor Consiglio, ringrazio la collaborazione di Gianni Maestripieri e di Egidio Conca alla regia Matteo Bedini, noi con Monitor Consiglio torniamo la prossima settimana.